Le fiamme sono divampate intorno alle 3 di domenica notte in via Sant'Andrea, all'incrocio con via San Luca a San Martino di Lupari. Il ruogo ha distrutto la colonina di un autovelox, un dispositivo che si attiva solo con la presenza di un agente della polizia locale. Sul posto sono arrivati i volontari dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgoricco, che hanno spento le fiamme, evitando che si estendessero alla siepe di un'abitazione vicina. Pochi dubbi sulla natura dell'incendio che sembra essere di origine dolosa. Indagini sono in corso per individuare i responsabili grazie all'esame delle telecamere di videosorveglianza della zona.